Benvenuti nel mondo degli orologi Tutima. Tutima è un marchio di orologi di lusso tedesco che produce orologi meccanici di alta qualità dal 1927. Fondato a Glashut, in Sassonia, dal dottor Ernst Kurz, il marchio ha creato il primo orologio Tutima con l'obiettivo di produrre orologi di precisione per i piloti dell'aviazione. Negli anni 30, Tutima ha iniziato a produrre orologi per l'esercito tedesco e dal 1984 anche per la NATO. Oggi, Tutima è un marchio di lusso noto per la sua attenzione ai dettagli e alla qualità, nonché per il suo design elegante e distintivo. La vasta gamma di orologi Tutima include la collezione Saxon One, caratterizzata da un design moderno e sportivo, e la collezione Patria, con un design più classico ed elegante. La collezione Saxon One di Tutima comprende il modello Grand Flieger Airport, un orologio pensato per i piloti, caratterizzato da una lunetta girevole unidirezionale e una doppia scala di misurazione del tempo di volo. La collezione Patria di Tutima, invece, comprende orologi dall'aspetto più classico ed elegante. La collezione include il modello Patria Admiral, caratterizzato da una cassa in oro rosa e una lunetta in acciaio inossidabile. La produzione degli orologi Tutima utilizza solo i migliori materiali, come acciaio inossidabile, titanio, oro rosa e cristallo di zaffiro, e ogni orologio viene sottoposto a rigorosi test di controllo di qualità per garantire la massima precisione e affidabilità. Un elemento distintivo degli orologi Tutima è il loro movimento meccanico di alta qualità, che garantisce precisione e affidabilità nel tempo. La qualità degli orologi Tutima è garantita dalla loro produzione interna. Infatti, ogni orologio Tutima viene prodotto in Germania utilizzando solo i migliori materiali e tecniche di produzione all'avanguardia. Tutima utilizza solo i migliori materiali nella produzione dei suoi orologi e ogni orologio viene sottoposto a rigorosi test di controllo di qualità. Grazie per la visione!